Perfetto, allora sento Agostini Civattiano, siamo in periodo di caccia alle firme, a quanto siete arrivati ad oggi a Spanne? Abbiamo circa 3.000 firme su carta, quindi raccolte, poi un altro circa 2.000 che ci sono state promesse e poi dobbiamo andare a raccogliere la firma casa a casa, quindi siamo moderatamente ottimisti sul raggiungimento dell'obiettivo finale. Il percorso è ancora lungo per guadagnare qualche giorno di tempo, voi avete anche deciso di fare un ricorso contro una decisione della direzione del Partito Democratico Regionale, ci spiega su che cosa avete fatto il ricorso e quali sono gli effetti che ha prodotto poi in concreto questo ricorso? Chiaramente noi il ricorso l'abbiamo fatto per una questione di principio, non per guadagnare tempo, perché pensiamo di aver ragione, poi l'effetto secondario se non vinceremo comunque di avere qualche giorno in più perché il ricorso sospende i termini. Il fatto è che il numero di firme da calcolare è il 15% degli iscritti del PD e l'Assemblea ha deciso che sono il 15% degli iscritti PD 2013, che era molti di più perché c'era il congresso e siccome adesso siamo nel 2015, noi vogliamo che la percentuale sia calcolata sul 2014, come è corretto che è l'ultimo anno prima di questo, insomma non due anni fa, che ci sembra in tempi di internet, di tessere digitalizzate, tutti i database informatici dove ricorrere a un database di due anni fa ci sembra un po' assurdo. Dicevamo il percorso è ancora lungo, bisogna arrivare a 9.000 firme, dopodiché eventualmente la candidatura di Modica sarà ufficializzata e le primarie si faranno. Al netto di quello che è emerso in Liguria, siete sempre decisi a portare fino in fondo quella che poi sembra una mission impossible perché comunque 6.000 firme in meno di due settimane sono tante. Voi vi fidate ancora del sistema primarie? Ci fidiamo fino a un certo punto, crediamo che in Toscana cose successe in Liguria non succederanno perché la base del partito è più diffusa, anche la base dei militanti, dei simpatizzanti è più diffusa, quindi questo scoraggia di per sé molte persone di destra a venire tra virgolette ad inquinare il voto. L'altro punto è che in Liguria c'era chiaramente un accordo della Paita con il centro-destra, mentre qua non ci sono aperture a sinistra che noi auspichiamo, però c'è anche una chiusura verso destra, quindi non credo che la destra venga a inquinare il voto. E poi ci possono essere dei correttivi, ad esempio tutte le persone che si dice possano inquinare il voto, sai che noi del PD siccome vorremmo dare il diritto di voto anche agli stranieri residenti in Italia, li facciamo votare alle primarie. Ecco, questo succede che le comunità di stranieri tante volte si muovono come monolite indirizzate magari da qualcuno. Ecco, invitando queste persone a registrarsi una settimana prima, anziché presentarsi a seggi direttamente, si può capire se ci sono casi di afflussi sospetti o casi di voto pilotato prima e effettuare i correttivi. Del resto le primarie sono un grande strumento, ci vorrebbe l'albo degli elettori che per scarsa volontà di tutti i segretari, compreso Renzi, non è mai stato fatto, però alcuni correttivi per evitare inquinamenti così pesanti ci sono. E poi noi abbiamo fiducia nella capacità organizzativa del PD Toscano che sarà in grado di evitare certe cose almeno. Un'ultimissima cosa giusto, un reminder, rifacciamo il punto, candidatura di Modica, importante come alternativa a Rossi, soprattutto su quali punti? È bene che si parli di programmi, perché noi non è che candidiamo una persona tanto per dire, tant'è vero che non abbiamo cercato una persona della nostra area o un candidato di bandiera. Noi abbiamo visto che c'era un po' di malcontento sulla gestione della regione di questi ultimi cinque anni e noi ci vogliamo distinguere e vogliamo anche stimolare un dibattito interno perché vogliamo che il prossimo governo regionale, che dovrà essere ancora guida PD, noi lo spieghiamo, sia molto diverso su alcuni temi. Uno è il settore dei trasporti, dove il governo regionale è stato molto carente. Noi siamo assolutamente contrari alla scelta che è stata fatta di allungare la pista a Peritola, ma non per ragioni di campanile, ma per ragioni ambientali. Noi vogliamo che Firenze abbia un grande aeroporto, ma se a Peritola un grande aeroporto non si può fare, la cosa migliore da fare è un collegamento molto veloce con l'aeroporto di Pisa, che poi può anche chiamarsi aeroporto di Firenze. Noi non siamo per il campanile, noi siamo perché tutti possano vivere in armonia e lì non ci può stare un aeroporto nella piana fiorentina. Creerebbe un grande impatto su Firenze, un grande impatto su tutta la piana, su tutti i comuni della piana, fino a Prato e Pistoia. E soprattutto a noi non piace molto il piano dei rifiuti, che deve essere più coraggioso e deve puntare molto di più sulla differenziata. E poi vorremmo anche che non si sostituisse il centralismo statale al centralismo regionale. Noi vorremmo appunto che la Toscana rimanga la Toscana policentrica dei territori, certo coordinata, con scelta di governo, indirizzata, ma dove non si vada troppo a influire pesantemente, cioè a svilire anche il ruolo dei comuni.